Fermengono purtroppo ancora gravi le condizioni dell'operaio di Caccamo che è rimasto coinvolto nell'ennesimo incidente sul lavoro che venerdì si è verificato in uno dei cantieri dell'autostrada A19 all'altezza di Enne che ha provocato una vittima. L'operaio rimane ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia di Palermo, mentre non è stata ancora restituita famiglia alla salma di Vincenzo Martorana, 57 anni di Villa Abate, coinvolto anche lui nell'incidente. Sul gravissimo incidente ci sono indagini doppie, da una parte quelle coordinate dalla procura di Enne e dall'altra quelle del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria provinciale di Enne. Il grave infortunio sull'autostrada A19 Palermo-Catania all'altezza di Enne a svincolo Ferrarelle si è verificato venerdì poco dopo le 13. Sulla base di una prima ricostruzione sembra ormai certo che i due operai siano precipitati da una piattaforma aerea, ossia da un ponteggio elettrico autosollevante quando si trovavano ad un'altezza di circa 6 metri. La piattaforma aerea, come spiega una nota dell'Aspe di Enne in fase di realizzazione, risultava essere montata alla base di un pilone della sovracitata autostrada via Dottomulini e verosimilmente continua la nota dell'Aspe Enne. Nella fase di montaggio la piattaforma del ponteggio elettrico autosollevante si staccava e i due operai precipitavano nel vuoto rimanendo schiacciati al suolo dalla stessa piattaforma.